Salve, siamo qui alla Startup Week Roma 2019, sono Alberto Ottaviani del sistema di sicurezza all'infarto per conducenti, un sistema elettronico all'infarto per tutti i veicoli pullman, macchine, minicar e motoveicoli a tre ruote. Praticamente consiste se l'autista mentre sta guidando viene colpito da malore o da infarto o da fibrillazione cardiaca, il sistema rileva l'accadimento e interviene sul mezzo fermandolo, accendendo le 4 frecce inviando una chiamata d'emergenza al fine di tantomeno salvare tutti i passeggeri al seguito. Gli ultimi accadimenti anche in fatto di sicurezza nazionale, l'ultimo ammanto, anche quelli successi a Parigi, hanno fatto sì che questo sistema diventi anche un sistema di sicurezza nazionale perché l'eventuale attentatore nel momento in cui prende il veicolo i parametri suoi sfalsati dall'agitazione o da ipotetiche droghe, così fa in modo che il mezzo venga spento e fermato.